Voglio ringraziare l'RTP, voglio ringraziare TCF, Tempo Stretto, 01TV, Prima TV, Bella Radio TV, Teleputar Radio, Radio Night, Onda TV, Etna Radio, queste sono tutte le Anza Sicilian, giusto? Sicilianz, esattamente, chiedo scusa, anzi vi ringrazio pure di questa diretta di questa sera e ci avete dato la possibilità di poter entrare nelle case della gente nel momento più delicato. Io vi dico anche che mi congederò per una settimana perché devo anche dedicare ora le mie attenzioni ad aspetti che ho trascurato e come cambia da pure nella vita non mi vorrei ritrovare a rimpiangere la non possibilità di aver potuto seguire, quando ancora ero in tempo, certe dinamiche. Quindi mi fermerò per una settimana e ritornerò sul campo venerdì. Quindi sappiate che la mia assenza su tutti i fronti è dovuta a questa necessità. Quindi vi saluto, vi ringrazio e per quanto mi riguarda vi do appuntamento a venerdì della prossima settimana. Se nel frattempo ci saranno anche delle novità per come ci dovremo organizzare, avrete, come capita sempre, lo dico in ogni caso, l'informazione di servizio che vi metterà in condizione di sapere preventivamente quando riprenderemo a sintonizzarci. Chiudo ringraziando tutti voi perché la vostra presenza nelle nostre dirette, nelle nostre battaglie che abbiamo fatto per il territorio è stata fondamentale. Voi avete fatto la differenza e vi dico anche avete fatto la differenza per me in questa fase e quindi a voi dico grazie per tutto questo perché sicuramente è stata anche un'occasione di visibilità che la nostra città, al di là di tutto, è riuscita ad acquisire anche con un sano protagonismo in relazione anche a tutte le attività che ha avuto la capacità di mettere in campo. E questo alla fine, mi permetto di dire, è l'elemento fondamentale della conclusione di questa fase. Messina come modello di buon governo anche in una fase emergenziale. Messina che ha oggi, si può permettere, di esibire dei dati importanti che possono e sono all'altezza di qualunque confronto con altre città. Siate orgogliosi di questo perché questo è ciò che voi avete scelto circa due anni fa e in un momento di vera difficoltà, di grande emergenza, è stato un elemento che ha fatto la differenza. Grazie a tutti e arrivederci.